musica 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 ciao a tutti il mondo del tubo lui è un tizio che ha i capelli vero ecco qualche altro dettaglio che ne so chi la bocca due gambe e sali chi ha gli occhi rossi la camicia blu io credo si trova ma io sto parlando di me ma stiamo perdendo non c'è la camicia blu come vedete il nome in blu si chiama plagas stranamente così a caso pagas vorresti dirci il nome del tuo cioè il motivo per il tuo nome allora motivi sono tanti come sapete no per scherzo il motivo è uno mi piace la saga di resident evil ah quella saga di merda ah ok comunque seriamente ve la consiglia a tutti cioè tutti gli amorti dell'oro tipo io a me mi piace l'oro scarico troppo sbatti troppo sbatti il brutto di retentable forse per voi forse per night più che altro è il fatto che è che devi dire deve sempre ritornare nei soliti punti che magari si è dimenticato qualcosa come avete visto siamo su Terraria e questo qua darà inizio alla nuova serie di 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 let's play di Terraria ma non è un po' piccola no questo è campanile che bello eh vabbè comunque vabbè comunque stavo dicendo no noi faremo questo let's play dove praticamente si se avessi tutto già fatto il fatto è che night è solo che registrare tipo ho scritto il nome del server e poi per sbaglio ho attivato attivando il nome nome del server il nome del server dato che c'era dentro una una lettera che è la lettera che fa partire la registrazione ha incominciato a registrare quando ho creato il server e poi appena volevo registrare ha spesso di registrare e quindi ha smesso di registrare se vedete quella tomba è denied quella la in casa è la mia si faremo vedere molto la caligrafia con cui è scritta la tomba molto bella eh sempre non rompere vado alle 21 vado alle 9 ciao quello tutti i suoi avanti con il mio vero per questo messi dei paio prenderò la serie io userò la classe da corpo a corpo e per la ranger che comporta del genere molto una grande varietà di armi buon dubbio un varietà di armi giusto un po' di armi scusateci per il primo episodio perso smarriti ma è tutta colpa mia no per il terreno giorgiano a fare il getto per i piedi della ranger perché abbiamo trovato dentro questa cassa quattro che la dvd è subito un grillo temerario comunitario la ripresa di uno e la città del corpo del corpo a corpo di due potete darmi lo faccio vedere dillo temerario evitare stessi corpo a corpo con il fatto per te ok non c'è dato che io l'ho decisione comprata di notte di terrare anche perché si può avere anche con il nostro modo comunque non dirò mai appare stessi sicuramente ho il coniglio verde che è del mio colore vabbè ma mai ovviamente ok allora ci sono diciamo vari modi per comprare che ne so su stem anzi oppure chiamato anche steam per tanti stem non ho la mia idea di cosa tu intendo per stem 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 è l'unico nome che conosco io no comunque io ho comprato su al game stop ragazzi quelli del game stop fidati vi sono dei lati della madonna no questo è un uguale eh no fidati sono dei lati veramente si lo so che sono dei lati eh ma fai conto che mi hanno abbiamo appena fatto un piccolo angolo sponsor dei game stop secondo me sono dei lati del punto e basta vabbè ci vado devo dire ci vado a comprare quello che mi serve però si lo so sono dei gran ladri lo so però io certe cose le compro al game stop qualche volta trovo delle offerte niente male ma di giochi già usciti stravecchi tipo comprato darksider a 20 euro la edizione limitata carina comunque faremo in questo retplay uccideremo ovviamente tutti i boss e chiuderemo quando avremo l'armatura sacra ok vabbè siamo lo stichia knight era quella sacra perchè ne ha fatto il sasso cartacolbice ok dato che ovviamente perchè Plagas è si è scassato in maroni Plagas è un eroe si 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 certo allora ora andremo a fare un po' un giro per la mappa appena ci sarà di di essere no che bella la mia spadina a considerare anche il lag tremendo del gioco ovviamente Plagas è il suo soprannome è Plagga perchè ogni cosa gli lagga ma secondo me non gli lagga niente solo che lui dice che lo lagga perchè sennò farebbe brutta figura guarda che città intanto rosica e basta ho ucciso che headshot anziché headshot riso capite la battuta no non lo capito sinceramente non lo capito headshot 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 per la testa headshot per l'occhio ahhh 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 la gas ehhh non pensavo faceva così pena sai che sto per morire Plaga che no si si scappa no scappa no ero chiuso la porta in faccia no ahhh 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 cavolo posate di vita grillo fugace comunque come potete vedere per fortuna non abbiamo trovato tanta roba e abbiamo questa stella però eh cos'è che ti ha dato? grillo fugace cos'è che fa? per 2 la velocità di movimento eh? aumenta più 2 la velocità di movimento prendilo grazie vabbè ehm adesso appena farà giorno andremo a vedere tutte le andremo a fare un bel giro di esplorazione grazie non è vero ho detto che sono un mago cioè che sono si un mago non faccio un mago perchè l'ho già fatto quindi faccio il corpo al corpo e Candle cos'era? ma che cazzo ne so io di Candle l'ho visto vent'anni fa oh che cazzo è successo? perchè mi sono mosso? con lo scambio di ruoli ah che cazzo è successo? ah che cazzo è successo? ah che cazzo è successo? ah beh infatti cazzo è successo? il mio ha il suo stile è unico si vedete magari mi servirebbe un po' di torce e qualcosa e da un secondo da steve a fare un salto per vedere una cosa allora voglio dire che cazzo è che hai perso il basso no stanno arrivando stanno arrivando allora dove 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 no 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 perciò si tratta da noi ah c'è anche 5 granati ok sto morito sto morito sto morito sto morito 5 0 8 no sto morito più o meno la serie sarà tutta così guarda che ti stanno arrivando da dietro dei mob stanno arrivando da dietro dei mob a me a me sia te all'unico ti vedrai in troppo uscito pungalow uno c'è stato andato alla porta uccidilo da notare gli enormi danno che gli faccio io con quest'arma oh l'incoperto come sarebbe un pugnale ah c'è un fungo io devo andare a un secondo a trovo la serie oh ma guarda quanto ci mette per scalare ciao dai cacchio oh siamo quasi al giorno meno male ho sciso oh che monotonia un seme caccio caccio ci serve da quanto a scuola coppia rai 2 sei di crema ma la la 16 16 passi no tengo io non perché io devo fare la spada lunga anch'io ma tu non sei un'altra cosa questo r 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 il futuro spada o a te è sul lato con chi sei che è il stop e se ce la fai per guardare anche a me mamma mia quanto è lento dai fa impressione da quanto è lento no 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 prima dobbiamo fare l'irona no non l'irona ambiles l'ambile fatto di una stella cadente è tirata sopra casa di ferro e il ferro dove lo troviamo dobbiamo andare a fare il ferro prima Plagas no dici dico no no guardate come Plagas si sta facendo stuprare da quelli zombie mi giunchi io no a c se ci sono si sta ritirando si abbiamo vinto abbiamo vinto vado un secondo da Steve e no si va Andrew va Andrew vabbè è la zombie adesso ti avrà da noi perfetti sempre io e vai vai Andrew no no pagas fermo fermalo che è stato no dove scappi non mi fuggirai ah 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 vai ah ah la vitezza di questa cosa è molto angusciante eh no dico è molto angusciante quanto ci mette eh quanto è l'into si serve l'aerone il mondo dell'aerontal adesso andiamo a schiavare ok 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 z no as l'as jun 10 vuor il tempo il tempo qua non si vede una minchia quindi mettiamo una bella torcia perfetto cosa c'è qua? l'altra cesta no c'è già la zona come mai si chiama? rotta cristo rovolombo no vedete Plagas è stato decapitato da un uomo guardate la vita di Plagas come va giù io ovviamente non trovo manco una grotta col culo che c'ho l'ho ucciso no si cadete i miei colpi vai Plagas è un uomo vai ma è un uomo 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 preso 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 ucciso Bocco di pietra, no, niente di che Oh per ore Stai attento quando scendi di qua Ok C'è lì, un ucciallo, un ucciallo Vada se non fare gli riferimenti volgati Un goldfish Un pesce, ancora Con questi riferimenti volgari Non è che mi dice, trovo, 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 trovo Trovata! Anch'io! Cosa? Iron Ma vaffanculo Io te lo trovo la grotta E' ecco, a quanto mi abbiamo mai dimmi? E' ecco, a quanto mi abbiamo mai dimmi? E' ecco, a quanto mi siamo? E' un avventare il sole Ma che mi siamo? Cosa mi hai? Ah, muori, muori! Tu 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 hai, albero muori, come qua? Ah, ucciso albero! Ma sei un assassino! rigogliati intero indifeso albero non aveva niente contro te ma tu l'hai ucciso quando c'è la volta mi serve il legno ce l'hai clagas il legno ce l'hai shuriken perfetto shubha test voglio usare una shuriken prima siii ho usato una shuriken ho sprecato due shuriken guarda che ho niente mi butti giù un po' di legna tanto devo parlare tanto io ho fatto un po' di torce che cosa è successo? che è morto? 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 è morto? un po' di torno è morto? ma non c'è stato un po' di due un po' di due 1 per quello che ci sta è una giornata a metà giornata. scoperto no 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 quando vedi che il collo è il collo sta scalando quando il collo sta calando quando il collo sta calando avvisali oh quanti slime quanto lo metto a ferro no ah se se non è un lavoro proprio tra l'amore di titerraria quale che si è chiesto che si chiudere ha il dono non lo miscono per esempio che non c'è la vita di usura non c'è guarda guarda io ho un po' di anima non è un problema di altri credo che la introdurranno se lo vediamo ok lo scambio ancora il coppia ah! dai perchè ci proviamo anche un nuovo una nuova opzione fare una delle isolanti eh vabbè quello è ovvio no se non vai sulle isole volanti non non certo non ha senso sono arrivato nella zona corrotta io guarda che si sortera da anch'io ho trovato l'equivalente della zona aperta non so cosa ha detto non è io ho detto che ci sono un buon po' di semi non posso dire a te sono arrivato sono arrivato la storia ho visto che è arrivato io no casa casa io no questa sarà sotto il video ok 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 sono fuori sono fuori eccomi un po' quanto io ho la regia di solito si è già già un'acqua per me per me per soli ok conti vorrei e 12 non so se si si piazza la posto tumbo io non lo conto conto che servivano per farla la roma di 5 acqua facciamo una barata di letto 12 borsi il migliorno il lavoro che ci ha già fatto un momento inibiti che è un uomo arco di ferro mortale danno che ciò che si rivolgono in giro 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 il mito tutto tutto cazzo sono riuscito fare solo solo la testa la cosa non coppia iiii no arrivo. tieni tieni c'è un progetti in france e per tutto carattere il lavoro però sono noto e che conti e lo il terreno mare Vabbè me lo metto C'è schifo da solo Che schifo Potevo prendere un pezzo sotto Vabbè Mi pezzo sotto al busto A te il dupla gas Ci si può far male Sì tantissimo Cristo 459 Te lo ho detto Abbr C'è un numero Пока Con ora sa C'è un numero Il numero Pesco non trovavo perso potete vedere una cosa che si è scoperto un po' video prende un po' di legno t t t t t t t st la prima di me per me per me per me per me se ho guardato anche se le regno ai paesi vincontro martello migliorale vincente ma sta da nuovo io posso da un'altra parte per mattare le cose Vabbè, è il mio chissà che finiamo adesso Perché sta calando Ok ragazzi, questo qua era il primo episodio registrato sul mio canale Secondo sarà sul canale di Plagas Io voglio stare qua perché sono più figo No E quindi aspetta che mi tolgo questo cappello che va schifo Questo era tutto da Nightwolf E Plagas Ciao E ciao Ciao E ciao